Non sarà una partita come tutte le altre, quella di domenica prossima al Via del Mare, con lo scontro al vertice tra il Lecce in terza posizione e il Perugia capolista. Decisiva per i giallorossi in prospettiva promozione diretta. Super concentrati quindi i giocatori con l'obiettivo di spuntare il risultato che all'andata fu sfavorevole per il Lecce, come ha ricordato Modio in conferenza stampa. Ora la situazione è cambiata, ha dichiarato. Noi eravamo in un momento che ci stavamo ancora conoscendo, diciamo tra virgolette, poi non era un momento positivo, neanche vicino. Però al di là di quello è stata anche condizionata dagli episodi, dopo un minuto prendere il gol sicuramente ci ha dato una botta in testa e poi non siamo riusciti a fare il risultato. Oggi penso che siamo in un altro momento, siamo diventati squadra, diciamo così, ci conosciamo, sappiamo cosa fa il compagno e questo nel calcio è fondamentale. Speriamo di poter dimostrarlo ancora domenica prossima. Fondamentale sarà il fattore campo, perciò l'invito ai tifosi è di esserci al massimo, complici le agevolazioni messe in atto dalla società. I giallorossi hanno effettuato una seduta di allenamento con esercitazioni tattiche, una partitella a tutto campo che ha visto Capitan Miccoli uscire prima per un fastidio muscolare. Indifferenziato Sacilotto, Pellazzini, Martinez e Dini domani si riprende a porte chiuse a Squinsano.